eccoci qua ragazzi ben ritornati sul mio canale allora oggi siamo qua con la terza parte di Outlast e niente ne ringraziarvi per le oltre 50 visualizzazioni per il primo video e tante altre per il secondo vi volevo ringraziare e partiamo subito in brutta maniera proprio via via vaffanculo a tutto via via niente non c'è niente non c'è niente niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente che abbiamo fatto non c'è niente che abbiamo fatto nemmeno che siamo più oltre la terza parte di la terza parte di noi ma ora 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 ci siamo di rinco vaffanculo guarda Non ci sono già più, guarda! Non va in più ancora! Ma sbaglio sempre a tasto! Allora, facciamo così, ecco! Non fate, ho visto un documento! Bateria! Oddio! No! 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 Oh mamma! Esci passando per le docce! No! No! Fuori di qua! Porca! Oh god! Io sono corso qua, ma dovevo andare qui? Oh! Sì, forse sì! Oh cazzo! Qui, qui, qui! È un colo! È un colo! no 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 porca troia no dove cazzo sono andato a finire oh mio dio trovo un altro modo per accedere alle docce no 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 spero che non mi fai niente proviamo ragazzi al massimo non ci fa niente 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 neanche qua non c'è niente si sono tuo amico ma spostati per favore no 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 Dio un altro merda Eeeeh lascia stare Scusami non volevo ma Dio un altro Cacca trota Wow! Keep moving! Quoi? non solo no, non, non ci devono andare proprio fuori cale e? vai facciamo questo no la unica strada è quella la per forza qua non c'è una batteria c'è niente non 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 c'è niente C'è un po' di musica, c'è un po' di musica. 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 Oh, cool. Boteria. C'è un po' di musica. Oh, cool. C'è un po' di musica. Oddio, ragazzi. C'è un po' di musica. C'è un po'. C'è un po' di musica. C'è un po' di musica. Merda. 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 E' un po' di musica. E' un po' di musica. di musica. Io direi di arrivare poco o basta. Perché non ce la faccio più. Salvataggio. Perfetto. niente ragazzi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like un commento e ci vediamo nel prossimo horror video ciao ciao